In America viene commesso un furto ogni 11 secondi. Un'aggressione ogni 65 secondi. Un reato di sangue ogni 25 secondi. Un omicidio ogni 24 minuti. E 250 violenze carnali al giorno. Un'aggressione ogni 24 anni. Un'aggressione ogni 25 seco. Un'aggressione ogni 25 secondi. Un'aggressione ogni 25 secondi. Grazie a tutti. 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 Anch'io ho i miei diritti. Non è vero? Porco! Arrestami. Diranno che sono incapace di intendere e di volere. I giudici sono gente civile. Non è vero. Non è vero. A noi due, porco! Dove ti nascondi? Io ti cavo gli occhi, porco! Ti distrugno! Ti distrugno! No! 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 è solo arrestarmi. È solo arrestarmi.